Io vado a Dolomit Pride perché è l'unione che fa la forza. Vado a Dolomit Pride per reclamare gran voce, non solo gli stessi doveri, ma anche gli stessi diritti. Per portare la mia sfumatura e la mia gioia di vivere. Per dare coraggio alle persone che non hanno ancora fatto coming out. E per togliere il coraggio alle persone che fanno campagna elettorale sulle nostre vite. Perché sono Osvaldo? Perché la LIA non può morcare. Perché vogliamo che nostra figlia sia orgogliosa della sua famiglia. Perché vorrei che nessun figlio fosse mai un invisibile. Perché voglio celebrare il mio orgoglio. Per difendere i diritti di nostro figlio. Perché mi piacciono la gioia e i colori. Perché siamo una famiglia e anche lo Stato lo deve riconoscere. Io, se fosse per me, non ci andrei. Però purtroppo ce n'è ancora troppo di bisogno in questa Italia. Perché siamo stufi delle discriminazioni. Perché sono lesbiche e perché sono trans. Per i nostri diritti.